Allora Dai su andiamo Tu sembri quella di La leggenda degli uomini straordinari Quello grosso proprio Maggio sei caduto? No devi schiacciare le cose Michael, Angelo cadete di nuovo Ma come si farà male? Ma lo stai già facendo Non lo so Gianni ma Stai facendo Daniela Sto male Angelo Quel bastardo mi ha scambiato per Dr. Jack Questo è il compleanno di Manuel Dai Questo è il mio compleanno E benvenuti a Movie and Jai Si è spento? Aspettate ragazzi Oh io sono l'ultimo Sì Da un po' più indietro Dovete comparire da qui Qua si vede un cazzo Comunque nel bosco Non si vede niente Non c'è più Arrivi tu e ti seguo Vai Ti seguo Un po' più indietro Vabbè Sei in rec? No Incaricati Vai in rec Vado in rec Vabbè ne è così Indietro E vabbè E vabbè Minchia così No Motore Azione Vabbè 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 ma devi stare zitto l'ha sparaminato tutto con questa cosa ma devi stare zitto è venuto bene il problema è che quando lui ti senta mi devo spostare di lato perché sennò è improvvisato però però io in macchina ho le pile nuove guarda ragazzi ordine quando Tommy ti sta riprendendo e ti stai magari avviando di là ti esci dal campo se Tommy ti riprende a un certo punto frontale continua a ridere tu stai andando via di là verso il campo ma c'è Daniela ma tu stai segato sempre questa parola è già segata lo superi e poi stacchiamo con l'altra inquattura che vai di qua e poi c'è il campo e mi stiamo utilizzando questo in seguito basta basta si sente non si vede niente se si sente questo ridere dai motore ti risapisce non do vuoi un po' più nascosto ok a me si vede no motore aspetta motore aspetta vai no video azione motore motore azione mi gioiellino è pronto porca troia che la congiudiamo come che scappo guarda cosa cazzo non lo sai quanto facciamo male figa poi c'è sempre figa allora non la megan fox scala johnson ciao mamma saluta saluta sono uno zombie Gianni Gianni sto dicendo cioè se noi ci allontaniamo verso sinistra possiamo continuare la ripresa che inseguiamo lui poi ci mettiamo anche un elicottero e una gru si poi poi l'esposizione di Milano alla fine Milano che parte sei proprio un regista grazie fa culo ah signor regista signor regista io sono operatore di camera però la contraria lei ha pagato pure notturno però due di notte c'è la maggior azione allora allora io ero qua allora facciamo tu stai fisso tu stai fisso riprendi il campo ma neanche cuore senta Daniela davanti per favore sì no adesso mi sposto io arrivo io arrivo facciamo allora allora lui sta scappando lui entra in campo tu mani entri in campo tutti indietro ragazzi e lo cammini piano piano mentre lui sta scappando e tu continua a camminare ok perché dà senso di movimento lui continua a scappare e poi quando spara si volta non mi avrete mai e io Michi e Angelo comunque entriamo in campo e lo seguiamo e lui continua a scappare genio è quello che è intanto nei cretini si voi camminate io non lo so perché noi è quello più snelle ed è l'unico che può correre noi giusti però no aspetta che siamo scusa a un certo punto ci vorrebbe anche noi guarda lo inseguo prima come la scimmia va bene è sempre dal basso cioè potremmo camminare dai ragazzi tu comunque cammini da qua no più indietro Tommy comunque tu continui a camminare piano piano così e qua è sempre Manuel che dice le sue cose io arrivo si appena appena no dico tu se faccio così tu come vuoi come vuoi di quello che vuoi basta di ci mettiamo perché cammini come se sei morto appena tu appena Manuel supera ma mazzi Michi se non lo devo ammazzare appena Manuel supera nel campo dentro verde nel prato entriamo noi in campo ok appena lui mette hai dato il cipice dell'occhio no non dico più niente non dico più niente ok vai va bene aspetto di vabbè tanto non c'entro in casa ho fatto asometrica per questo io minchia motore azione no aspetta vai ora motore motore azione aspetta aspetta dovete entrare in campo non ne vorrete mai non c'entro in campo che è stato regista Buono a Mara tissue ha constitutes semplice regista che serve non sapere ho fatto anche lui che mi sta filmando mentre io parlo arriva lui con duenici che lo stanno dopo la ripresa la seconda volta che mi danno la segata anche ieri sangue 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 ovunque porca troia sangue ovunque poi c'è il foro di daniera si vede si finalmente cazzo tu non vuoi prendere me che cado sotto rimandi fermo su di me e ti giri su di loro seguite lui che mi scappa quando lui sta cadendo loro incominceranno a muoversi e verranno verso di te torpassandoti ok? aspetta quindi noi corriamo verso di me e poi andiamo a correre qua seguite me seguite me la videocamera è qui cazzo devi seguire me ma come dobbiamo correre? corri normale ma non troppo veloce il cornetto la registrazione reti vi è piaciuto questo corto? ricordatevi di non essere ubriachi di notte oh merda oh merda raga mi sono fatto tutto il parco sui pantaloni cazzo finito possiamo avvicinarci verso... basta grazie grazie grazie